la cattedrale della trinità venne retta a mosca tra il 1555 e il 1561 per commemorare le vittorie di ivan il terribile durante la guerra russo kazana vennero poi costruite otto chiese raccolte attorno alla nona chiesa la cattedrale dell'intercessione tutte poggiano sulle stesse fondamenta e sulla stessa cripta e sono collegate da due gallerie nel 1588 fu costruita la decima chiesa dedicata a san basilio il benedetto sopra la tomba del venerato l'altezza massima è di 55 metri raggiunti dalla cattedrale dell'intercessione che ha un'area interna di 60 metri quadri i materiali da costruzione usati sono mattoni pietre legno per le strutture stucco ceramica e stagno dorato per le decorazioni la pianta di nove delle dieci chiese è perfettamente simmetrica con quattro chiese ottagonali che si alternano con altre quattro chiese che si espandono attorno alla chiesa centrale tuttavia la simmetria è rotta dalla pianta della chiesa di san basilio a forma di lapide e dalla torre campanaria a sud est grazie ai registri religiosi sappiamo che la chiesa centrale la cattedrale dell'intercessione viene completata per ultima il 29 giugno 1561 la sagoma della chiesa ricorda un falò con le fiamme che si levano verso il cielo è in stile bizantino tuttavia è totalmente diversa da qualsiasi altro edificio russo del precedente millennio o anche solo bizantino è un mix alquanto bizzarro di influenze stilistiche tra cui le tradizioni russe degli edifici in legno e pietra con elementi di architettura italiana e greca i mattoni delle volte risentono chiaramente dell'influenza italiana alcune curiosità la cattedrale venne secolarizzata alla fine degli anni venti da joseph stalin e da allora ha fatto parte del museo statale di storia del complesso del cremlino secondo la leggenda al termine dei lavori ivan il terribile fece accecare l'architetto per impedirgli di usare i suoi progetti altrove in realtà posting yalokev non venne affatto accecato e continuò a lavorare per tutto il decennio successivo al 1560 se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando